Anche quest'anno, come è ormai tradizione, tornano puntuali le polemiche sulle prove invalsi, polemiche che in questa circostanza si intrecciano con la situazione di emergenza che stiamo attraversando. Non da oggi le organizzazioni sindacali, e non solo, chiedono che almeno quest'anno le prove invalsi vengano annullate, anche perché, soprattutto nella scuola secondaria, a causa della frequenza in presenza molto discontinua da parte degli studenti, i risultati sarebbero ben poco significativi. Ma non mancano i pareri opposti. Per esempio, Andrea Gavosto, presidente della Fondazione Agnelli, sostiene che proprio in questa situazione i test sarebbero utilissimi per poter misurare in modo più preciso la perdita degli apprendimenti. Gavosto cita anche l'indagine che qualche mese fa è stata condotta nei Paesi Bassi in occasione del primo lockdown. La ricerca ha misurato i livelli degli apprendimenti prima e dopo la chiusura delle scuole e ha evidenziato la mancanza di progressi da parte della stragrande maggioranza degli studenti. L'indagine, anzi, ha evidenziato che a subire le conseguenze più pesanti del passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza sono stati gli studenti che vivono in ambienti familiari più svantaggiati. Anche Roberto Ricci, dirigente dell'Invalsi, responsabile delle rilevazioni periodiche, non ha dubbi e afferma che la perdita degli apprendimenti a causa della chiusura delle scuole non è un rischio ma una certezza. Per la verità, afferma la presidente dell'Associazione Docenti Italiani, Alessandra Cenerini, in Italia non abbiamo dati per quantificare in modo preciso la perdita degli apprendimenti. Potrebbe essere molto rilevante o non così drammatica, ma di fatto, dice Cenerini, nessuno lo sa, per la semplice ragione che, contrariamente a quanto accade in altri paesi europei, non disponiamo di alcun dato affidabile su larga scala. Ecco perché l'Associazione Docenti auspica che le prove invalsi non vengano annullate e afferma senza remore di rivendicare con forza lo svolgimento della consueta rilevazione annuale. Bisognerebbe però, aggiungiamo noi, avere la garanzia che gli esiti vengano usati non già per sanzionare chi non ottiene buoni risultati, ma al contrario per individuare le soluzioni adeguate per superare i divari che inevitabilmente si riscontreranno. Su questo tema ovviamente continueremo a tenervi informati, seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri pareri, le vostre opinioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.